Senti Marco, è stata una settimana particolare soprattutto in Parlamento. Vediamo la scena alla quale abbiamo assistito ieri alla Camera e poi c'è la domanda. Si è vista com'è andata quella politica iniziata a niente popò di meno che da Formigoni. Lui e il centrodestra in Lombardia hanno tagliato in poco più di vent'anni 25.000 posti letto pubblici assegnando il 40% delle risorse alla sanità privata. Se uno segue quel dibattito parlamentare si rende conto che questo parlamentare Ricciardi dei 5 Stelle inizia a parlare normalmente, dopodiché cominciano a urlargli di tutto e lui deve alzare la voce. Io trovo sconvolgente, poi al di là del fatto che uno può dire che hai usato una parola e ne hai usata un'altra, che tutti sanno, a cominciare dai Lombardi che hanno avuto parenti, nella migliore delle ipotesi, malati, almeno uno, nella peggiore morti, che il problema numero uno di questa pandemia, oltre al virus, è stata la gestione della sanità pubblica in Lombardia. Senza il contagio fuori controllo in Lombardia l'Italia avrebbe avuto numeri paragonabili a quelli della Germania. Il lockdown sarebbe durato meno se non fosse esplosa, la Lombardia non fosse rimasta per molte settimane e non fosse tuttora fuori controllo. Ti pare possibile che il problema non è più la Lombardia ma è chi dice che il problema è la Lombardia? Mi ha fatto venire in mente la fiaba del re nudo. Tu dici che il re è nudo in Parlamento e dove altro dovresti dirlo? Qual è la sede istituzionale nella quale dire finalmente ciò che funziona e ciò che non funziona alla luce di quello che abbiamo visto per porre rimedio a quello che non funziona se non il Parlamento. Quello l'ha detto anche Giorgetti però. Le critiche si possono fare e si devono fare in Parlamento però non con un jacuzzi così duro altrimenti si va alla rottura. A me sai della rottura con Giorgetti non facendo politica non me ne può fregare di meno. A me quello che interessa è che siano state dette delle cose giuste e incontestabili. Dato che io le ho scritte 80.000 volte non ho trovato assolutamente nulla di fuori posto se non il fatto che si alzava la voce perché c'erano tutti che urlavano. E quando tu li senti di qua li senti molto meno che di là. E noi sappiamo che l'immunità parlamentare per la nostra Costituzione serve a consentire ai parlamentari un surplus di diritto di critica rispetto a quello che abbiamo noi comuni cittadini. Proprio perché in Parlamento innanzitutto bisogna fare le denunce più forti di quello che non funziona. Io mi domando veramente perché ci si scandalizza perché una volta tanto in Parlamento c'è un parlamentare del 5 Stelle che non storpia i congiuntivi, che non insegue complotti ma che mette in fila tutti i problemi, alcuni dei problemi veri che hanno portato fuori controllo la situazione del contagio in Lombardia.